Qui all'undicesima edizione di Arte Genova siamo con Mario Napoli, il presidente della Galleria Satura di Genova, che è pronto a presentarci i suoi artisti. Bene, intanto siamo molto orgogliosi di questo doppio stand qui alla undicesima Fiera Arte Genova, dove è possibile trovare tantissimi artisti, giovani, meno giovani, grandi firme del passato e dell'arte moderna e contemporanea. Qui in questo stand, che è il doppio stand numero 30 e numero 62 della undicesima Fiera, possiamo trovare tantissimi artisti che fanno capo alla nostra galleria e che abbiamo l'orgoglio di presentare in uno stand veramente molto bello e molto vario anche per quanto riguarda sia le tematiche sia le tecniche espressive. Quanti artisti espongono le loro opere qui? Beh, intanto precisiamo, sono veramente veramente tanti, ma lo stand più grande dell'arte fiera, noi abbiamo avuto tantissime richieste quest'anno di partecipazione a tal punto che abbiamo proprio dovuto ampliare questo stand e aumentare con un secondo stand. Quindi il nostro obiettivo è sempre quello di promuovere giovani talenti e quindi per questo lo spazio è veramente tanto, siamo oltre gli 80 artisti presentati presso lo stand qui ad Arte Genova. Bene, allora andiamo a conoscerli alcuni di questi artisti protagonisti di quest'undicesima edizione. Allora, io come vedete sono un figurativo, è un figurativo particolare perché cerco, come dire, di ispirarmi alle cose che mi piacciono di più, cioè i soggetti femminili che per me non devono essere mai aggressivi, a me piace la figura di donna rilassante e rilassata, quindi non mi piacciono le cose molto aggressive, quindi esprimo, come dire, un tipo di pittura un po' adattata, diciamo, però io sono quello che sono, penso di valere per quello che faccio, poi mi rendo conto che oggi è tutta un'espressione informale, spero che la gente apprezzi anche il mio modo di esprimermi.